Recovery Plan, Petrosillo, avviare riforme che vadano verso un coordinamento di reti interprofessionali. Vaccinazioni in farmacia partita alla Calabria, circa 400 quelle che hanno aderito. Vaccinazioni in farmacia, le marche procedono spedite, rinnovate le cariche sociali di Federpharma Frosinone. Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del Tg di Federpharma Channel. Superare il concetto di sistema compartimenti stagni e avviare riforme ispirate ad una visione globale dell'assistenza, puntando ad un coordinamento di reti interprofessionali, farmacisti, medici, specialisti e infermieri che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza, ospedale e territorio. Sono questi alcuni passaggi dell'intervento di Gianni Petrosillo, presidente SUNIFAR, nel corso del webinar Medicina del Territorio e Recovery Plan, un'opportunità di cambiamento organizzato da Motore Sanità. Eccone uno stralcio. Oggi le farmacie fanno i tamponi, fanno la rilevazione dei contagi Covid. Ci sono regioni che sono partite con le vaccinazioni. Né durante la fase Covid abbiamo avuto un'ulteriore spinta alla dematerializzazione. Qualcuno l'ha ricordato prima. Oggi noi consegniamo il Green Pass. Quindi veramente un supporto a tutto tondo nella risoluzione dei problemi emergenti. Non è un caso che noi siamo stati oggetto di interesse da parte dell'Agenzia per la coesione, del Ministero per il Sud, perché ci ha assegnato, nella missione 5 lo troverete, ci ha assegnato un progetto che vale 100 milioni per fare che cosa? Per sviluppare i servizi nelle aree interne, nelle aree montane, per sviluppare i servizi laddove le situazioni sono più critiche. Circa 400 le farmacie calabresi che da ieri hanno iniziato ad effettuare i vaccini agli over 60. I farmacisti, formati da corsi dell'Istituto Superiore di Sanità e UTIFAR, in Calabria rappresentano da sempre un punto di riferimento soprattutto nei piccoli paesi lontani dai centri urbani. Con questo nuovo progetto si compie un ulteriore e importante passo verso l'attuazione di quella farmacia dei servizi su cui Federpharma sta investendo tante energie da anni e che trovano grande accoglimento tra i cittadini, ha spiegato con entusiasmo Vincenzo De Filippo, presidente di Federpharma Calabria. Il vaccino somministrato per ora sarà il Johnson & Johnson e sarà possibile prenotarlo direttamente in farmacia con la propria tessera sanitaria. Volano alto le marche nella somministrazione del vaccino anti-Covid-19. In solo tre settimane sono state somministrate più di 3.300 dosi di vaccino Pfizer per gli under 60 e Johnson & Johnson per gli over 60, nelle 100 farmacie attualmente attive su un'adesione complessiva in sede regionale di 220. Le marche, sottolinea Andrea Avitabile, presidente regionale di Federpharma, sono state la seconda regione d'Italia dopo il Lazio a credere in questo servizio di vaccinazione nelle farmacie. Per Marco Meconi, vicepresidente di Federpharma Marche e responsabile regionale delle farmacie rurali, è stato fondamentale il rapporto personale di fiducia tra cittadino e farmacisti, in molti casi determinante per avvicinare al vaccino persone sfuggite alle prime azioni. Rinnovate le cariche sociali di Federpharma Frosinone con la riconferma di Giovanni Querqui alla Presidenza. Stefania Cervini nominata vicepresidente, Stefano Torrisi segretario e Marco del Signore alla carica di tesoriere. I consiglieri sono Andrea Aceto, Alessandra Muraglia, Fabrizio Prigiotti, Anselmo Rotondo e Giuliana Tomei. Con le notizie di Federpharma Frosinone chiudiamo l'edizione uvierna del nostro telegiornale. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.